Adesso vi spiegherò perché ho una borsa in mano. Ciao a tutti, sono Marco di Fanshop e volevo spiegarvi perché prima, nell'introduzione, avevo questa borsa in mano. Il motivo è semplice, è per farvi capire cosa si può anche fare con dei tessuti ombreggianti o con delle reti, insomma. Due parole su questa borsa. La borsa è stata realizzata da un'artista famosissima in tutto il mondo, Donna, che appunto ha preso, ha avuto l'idea di prendere questo tessuto, nello caso specifico di questa borsa, è il textile double, insieme al textile all black. Quindi vedete che ci sono delle riprese nere. Ecco, è l'incrocio dei due tessuti. Ha preso il materiale, l'ha tagliato, prendendo la forma da una borsa già esistente, l'ha cucito insieme, e questo è importante perché ci fa capire anche che questi tessuti, con una macchina a cucire, si possono tranquillamente cucire. Gli ha dato la forma delle maniglie, ha intrecciato appunto i due tessuti, ha fatto delle riprese di tessuto nero e grigio, e poi all'interno ha avuto la brillante idea di prendere un tessuto normalissimo, comprato in sartorie, questa non è una cosa da recinzione, diciamo, è una fodera all'interno, che si può anche richiudere. Carinissima quindi l'idea. Ok? E poi, nella sua parte bassa, ha utilizzato per irrigidire appunto il fondo della borsa con del cartone, un po' spesso, incollato alla parte sotto appunto. Altro aspetto carino di abbellimento di questa borsa, come potete vedere, è il fiocchetto, quindi molto semplice, un pezzo di tessuto anche qua rettangolare, pizzicato, legato dal textile all black, con una ripresa di frange bicolore. Molto carino, molto particolare, lo trovo un'idea veramente interessante e moderna. Bene, ora pensate a quante reti, quanti tessuti ci sono in commercio e quante idee si possono avere appunto se avete un po' di inventiva. Personalmente ne ho viste di varie tipologie, appunto in base alla rete si possono fare degli intarsi, addirittura delle borse tutte in rete, insomma c'è un mondo su queste cose che non mi ci metto sicuramente a fare lezioni a nessuno. Il mio video è semplicemente per dire, con una rete ombreggiante si può fare questo tipo di accessorio. Bene cari amici, siamo giunti alla fine di questo video, non mi rimane che svelarvi il nome dell'artista femmina che vi ho accennato prima. L'artista in questione è... mia madre. Ciao a tutti, borsa!